allora diciamo che qua ha avuto inizio tutto perché siamo usciti di casa e come se si può inquadrare dove c'è lo stop lì è il punto dove ci siamo fermati quindi è stato un attimo tempo di salire in auto non abbiamo neanche avuto il tempo di proseguire con il nostro viaggio perché come hanno scritto in tanti Nicola aveva fretta di nascere e quindi mia moglie mi ha chiesto devo scendere dall'auto e così è stato lì dove c'è lo stop tanti di Brutasco conosceranno che c'è l'edicola tabacchi e ci siamo fermati proprio lì Nicola aveva fretta e quindi è capitato tutto in pochissimo tempo noi ringraziamo la natura che secondo me ha fatto il 120 per cento del suo dovere e ci ha aiutato in questo piccolo miracolo piccolo e grande miracolo e ha reso tutto semplice perché diciamo siamo qui a raccontarlo perché è andato tutto in maniera perfetta sennò magari sarebbe un pochettino più complicato però devo dire che lo spavento di entrambi è stato grandissimo ma così come grande la soddisfazione adesso che siamo diventati in quattro